Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vediamo i diamanti. Ma cosa sono i diamanti? I diamanti sono dei biscottini, semplicemente che ricordano vagamente il diamante, perché sono un po' svasati e sono panati con un po' di zucchero ed hanno una coroncina tutta attorno. Hanno un po' una forma un po' svasatina, sopra piatta e tutto lo zucchero intorno. Ok? A questo punto mettete su teglia, così, vedete? Perfetti i nostri diamantini. Quelli qua, dopo facciamo una foto finale. Perfetto. Quindi diamante al cacao al caffè, fatelo al gusto che volete. La lezione è terminata e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!